Buongiorno, sono Andrea Papoff di FinConcept Spa. Voglio parlarvi di un nuovo progetto, un nuovo prodotto che abbiamo messo a punto da poco. Si chiama Team Photo. Nasce dalla nostra esperienza. Da oltre dieci anni lavoriamo appunto nella gestione del cambiamento e nell'ottimizzazione dei processi produttivi. Ci siamo accorti che c'è una costante. Ci sono delle inefficienze nei team che sono uno dei fattori principali di spreco nei processi produttivi. Intervenire su queste inefficienze risulta dal nostro punto di vista un elemento estremamente interessante. Trovare uno strumento diagnostico di queste inefficienze. Cosa offre il mercato? Il mercato offre diversi strumenti. Uno che è molto probabilmente molto conosciuto che è il 360 Feedback che è uno strumento molto interessante che dà una scansione a livello personale molto profonda. Tuttavia molto complesso. Ci siamo posti la questione della usabilità. Abbiamo quindi creato uno strumento che cambia ottica e proprio un cambio del punto di vista. Analizziamo il team non da un punto di vista dei suoi singoli componenti ma delle dinamiche che si sviluppano all'interno di questo team. In che modo? In un modo molto semplice, molto lean dal punto di vista dell'azienda, poco invasivo. Nel senso che sono al massimo un quattro incontri dove andiamo appunto a, da un lato, incontri personali con ogni componente del team ma dall'altro un'osservazione di quelle che sono le dinamiche del team, business game e quindi una sessione di conversazione facilitata dove facciamo emergere elementi di difficoltà che esistono, cose non dette e questioni problematiche. Cosa cerchiamo? Cerchiamo un partner, cerchiamo più partner che ci supportino, partner operativi e commerciali che ci supportino allo sviluppo di questo prodotto.